ragazzi siamo a talchitna nella nostra strada verso nord in alaska e nominate un po cosa trovata qua così per caso qui c'è una stazione ricarica e qui c'è scritto che se volete donare perché vi hanno fatto ricaricare potete andare sul sito e farlo nel mezzo del nulla c'è un museo siamo in una cittadina piccolissima è una via sola con quattro case di legno è interessante